Ciao a tutti e benvenuti su Mondo Promozioni. In questo video vi mostrerò i 5 migliori monopattini elettrici. Inoltre vi lascio il link di tutti questi fantastici monopattini elettrici qui sotto nella descrizione del video. Iniziamo. Numero 5. Al quinto posto troviamo il monopattino elettrico RCB. Questo monopattino è progettato per spostamenti facili e portatili. Dotato di una batteria da 6.6A, offre circa 18-20 km di percorrenza giornaliera. La velocità massima di impostazione di 25 km orari garantisce sicurezza e stabilità. Ha ammortizzatori aggiornati ed è dotato dei più recenti pneumatici a nido d'ape da 8,0 pollici per garantire la tua esperienza di guida confortevole. Il prezzo è di 299 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo il monopattino elettrico Nimbot. Nimbot si caratterizza per un design nuovo e accattivante e un'ottima esperienza di guida grazie al comfort, alla stabilità e alla sicurezza del mezzo. Integra ruote da 10 pollici con camera d'aria, studiate per assorbire gli impatti e per rendere il tuo viaggio piacevole ed efficiente. Con un tempo di ricarica di 5 ore, avrai a disposizione una velocità massima di 25 km orari e un'autonomia fino a 25 km, nasce per darti il massimo in ogni viaggio. Può essere ripiegato in due semplici mosse utilizzando solo una mano. Con un peso netto di 15.3 kg, puoi portarlo ovunque, riaprirlo e ripartire, è semplicissimo. Il pannello di controllo digitale a LED non mostra solo il livello della batteria, ma anche la velocità e lo stato della connessione Bluetooth. Aumenta la tua visibilità grazie alla luce frontale LED ad alta potenza da 2.1 W e alle luci posteriori e del freno. Il monopattino integra anche un campanello meccanico. Il sistema di frenata rigenerativa trasforma il tuo Naimbot in un veicolo elettrico che si autoalimenta dall'energia riciclata dalla guida. Le ruote trasformano l'energia della frenata in energia da immagazzinare nel pacco batteria a litio. Grazie ai due freni indipendenti, assicura frenate sicure e immediate. Il prezzo è di 377 euro. Prima di passare al prossimo prodotto, iscriviti al canale per non perdere le migliori offerte. Numero 3. Al terzo posto troviamo il monopattino elettrico Ducati. Ideale per andare a lavoro, a scuola o fare un giro in centro città. Trasportarlo sui mezzi pubblici o privati non sarà un problema grazie al peso ridotto e al sistema Easy Folding, che permettono di piegarlo in una semplice mossa e senza alcuno sforzo. Leggero e maneggevole, solo 12 kg di peso e chiusura con blocco, portalo con te ovunque. Tecnologico e connesso, blocco del motore da remoto, dati di utilizzo, assistenza diretta. Agile e scattante, silenzioso, prestazionale, reattivo con motore da 350 watt. Il prezzo è di 381 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo il monopattino elettrico Xiaomi. Questo monopattino elettrico all'avanguardia utilizza una lega di alluminio aerospaziale ad alta resistenza, che gli conferisce un peso netto di appena 12 kg e ne rende il trasporto estremamente semplice ed agevole. Velocità massima, 20 km orari, sofisticato cruise control, aiuta a mantenere una velocità costante impostata dal guidatore. I pneumatici antiscivolo da 8,5 pollici e gli ammortizzatori assorbono efficacemente gli urti. Il prezzo è di 453 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo il monopattino elettrico Max. È dotato di supporto in alluminio per rinforzare i parafanghi. Il design può ridurre il tasso di danno dei parafanghi a meno del 1%. Ha una doppia sospensione. Può ridurre le vibrazioni e ammortizzare quando si cammina su strade irregolari. I fari ultraluminosi con una portata fino a 15 metri migliorano la sicurezza. Il doppio sistema di frenatura ha un freno a disco e un sistema di frenata antibloccaggio rigenerativo e ABS. Pneumatici solidi da 10 pollici esenti da manutenzione. Lo scooter elettrico utilizza pneumatici pieni ammortizzanti da 10 pollici, che sono altamente elastici e resistenti all'usura. Gli pneumatici a nido d'ape non richiedono gonfiaggio, riparazione o manutenzione. Pieghevole e portatile, adatto ai tuoi spostamenti quotidiani. Il prezzo è di 499 euro. Vi ricordo che trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Grazie per la visione.